Benvenuti e benvenute in questo spazio che FPA dedica ai propri partner per parlare dei principali temi di innovazione. Oggi dedichiamo questo spazio all'ottimizzazione dei processi organizzativi e lo facciamo con Federico Piccino, responsabile dell'unità organizzativa organizzazione processi e progetti speciali della Croce Rossa italiana. Ciao Federico. Grazie Patrizia. Con la riforma, passiamo subito alla prima domanda, con la riforma della Croce Rossa italiana vi siete ritrovati a pensare allo start up della Croce Rossa italiana che ha alle sue spalle 160 anni di storia. Perché? Esattamente così, sembra un paradosso ma è andata così. Nel senso che nel 2024 l'associazione della Croce Rossa italiana festeggia i suoi 160 anni di vita dalla sua fondazione, ma in realtà a seguito del decreto legislativo 178 del 2012 l'associazione ha vissuto un periodo di riorganizzazione perché il legislatore ha previsto una privatizzazione che ha determinato di fatto un reset completo di tutta la struttura organizzativa. Questo so che per molti può risultare una sorpresa perché abbiamo voluto prestare una massima attenzione affinché questa riorganizzazione non impattasse sui servizi che eroghiamo quotidianamente nei riguardi della popolazione. Però di fatto ha determinato un reset completo. Questo però per noi è stata anche un'occasione per poter ridisegnare l'organizzazione nel suo intero e quindi andare anche a ristrutturare, a pensare da zero tutti i processi organizzativi anche in chiave digitale. Bene, quindi il digitale per snellire la burocrazia. Qual è stato il processo? A me piacerebbe pensare l'arco temporale del 2016 ad oggi come distinto in due fasi. La prima fase era dedicata a definire i processi e andarli a pensare da zero proprio perché siamo partiti da una struttura che è partita da zero in virtù dello startup di cui parlavamo prima. In questa fase chiaramente tutto era su carta sia per un discorso di tempo perché non c'era stato il tempo di pensare di implementare degli strumenti digitali sia perché attraverso la carta avevamo la possibilità diciamo di essere più snelli possibili. Una seconda fase un pochino dopo che era diciamo dedicata invece a un consolidamento dei processi organizzativi e quindi anche una loro digitalizzazione. In questa fase però non abbiamo voluto dare nulla per scontato perché abbiamo voluto puntare anche a guardarci diciamo con occhi esterni e a non digitalizzare quindi non portare nel mondo digitale le cose che avvenivano sul mondo diciamo nel mondo analogico to cure ma abbiamo voluto proprio ripensare o comunque dare la possibilità di ripensare alcune attività che svolgevamo su carta. Proprio per questo abbiamo iniziato questo processo di digitalizzazione anche coinvolgendo il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e organizzando una serie di workshop e interviste con i colleghi per non dare nulla per scontato. Quale tecnologia avete utilizzato per ripensare questi processi e soprattutto che impatto ha avuto la tecnologia su tutta l'organizzazione? Allora una volta definiti i requisiti del progetto abbiamo avviato una fase di software selection senza lasciare nulla per scontato. Avremmo sicuramente potuto sviluppare l'applicativo in house quindi partendo da zero ma questo avrebbe significato sicuramente dei tempi di realizzazione e quindi dei costi molto elevati. Dall'altro lato abbiamo valutato delle soluzioni no code presenti sul mercato ma che si avrebbero garantito dei tempi di implementazione molto rapidi ma ci avrebbero limitato sulle scelte future quindi l'implementazione di altri processi. Abbiamo invece valutato Appian come un giusto compromesso tra nell'ipotesi make or buy perché ci garantiva sia una rapidità di implementazione dei processi che volevamo digitalizzare sia ad altre parti una scalabilità nel futuro per eventuali altri sviluppi e implementazioni di processi futuri. Chiuderei chiedendoti per quale motivo o perché ecco per un'organizzazione come la Croce Rossa italiana è fondamentale che i processi siano snelli, agili, efficienti? Allora, la Croce Rossa italiana chiaramente non è una realtà profit però per noi è fondamentale che l'esecuzione dei processi anche la loro modifica sia snella e veloce per poter rispondere ancora più rapidamente ai cambiamenti del contesto in cui ci troviamo ad operare. In particolare, essere rapidi nel rispondere alle esigenze vuol dire massimizzare l'impatto dell'azione umanitaria che svolgiamo quotidianamente. Grazie Federico Piccino, responsabile dell'unità organizzativa Organizzazione Processi e Progetti Speciali della Croce Rossa italiana. Grazie a voi. Grazie e ricordo a chi ci sta guardando che sul nostro sito è possibile trovare una serie di approfondimenti sui temi di cui abbiamo discusso quest'oggi e realizzati in collaborazione con il nostro partner Appian. Grazie a tutti.